Nives Spattini, 59 anni, assistente amministrativa al liceo Marconi, ha un marito e tre figlie, vive a Carrara. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per partecipare al cambiamento della città, governata dalla solita casta politica autoreferenziale, lontana dalle reali necessità dei cittadini e sorda ai problemi del territorio. Sogna con De Pasquale Sindaco la rinascita culturale e produttiva di Carrara attraverso uno sviluppo sostenibile ed un'amministrazione solidale della cosa pubblica affinché nessuno debba rimanere indietro.